L'antica sede della Corte d'Appello delle Puglie, così dal 1817 fino al 1923, prima che fosse trasferita a Bari durante il governo Mussolini. Il Tribunale di Trani compie 800 anni, istituito dall'imperatore Federico II di Svevia, che attraverso un decreto del 28 aprile 1215 consentì alla popolazione locale il privilegio di essere giudicato da propri giudici, i quali dovevano emanare le sentenze in forma scritta e poi motivarle. Tanto è cambiato naturalmente, la giustizia a Trani ora si amministra non più solo in questo edificio. Avremo bisogno di un edificio che contenga i vari uffici, che ci consenta anche di esercitare una forma di controllo su quello che vi si svolge, non solo, ma che possa evitare all'utenza e all'avvocatura di correre da un palazzo all'altro, basti pensare che il Tribunale di Trani su otto edifici, che crea ovviamente dei disagi che comunque riusciamo a sopportare, però non so fino a quando. Nella città degli ordinamenti a Maris, gli articoli che diedero vita alle leggi commerciali in materia marittima nel Medioevo, la ricorrenza viene celebrata nella sede dell'Ordine degli Avvocati. Abbiamo voluto ricordare questo anniversario con un piccolo libretto dove raccogliamo le foto degli avvocati molto più anziani che ornano il Consiglio, le nostre sale consigliari e pochissime cinquecentine che conserviamo nella nostra biblioteca. Grazie.